Archiviata la sconfitta sul campo della capolista chiusi, la Mescola Basket Arezzo torna al Palace Portestra domenica 1 marzo alle 18.15 contro la Cea Virtus Siena. Arbitri della settima giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold saranno i signori Frosolini di Grosseto e Rinaldi di Livorno. Dopo la prima della classe, gli amarantoli coach Millie saranno dunque alle prese contro un'altra big del campionato, attualmente seconda in classifica, alle spalle dell'accoppiata umana chiusi Manetti Castelfiorentino e rinforzata nelle ultime giornate dall'innesto dell'ex sba Simone Lenardon. La Virtus Siena è guidata in panchina da coach Tozzi che oltre a Lenardon può contare sul miglior rimbalzista del campionato Casoni con gli esperti Olleia e Imbro, migliori realizzatori del Rosso-Blu, ben oltre la doppia cifra di punti segnati a partita. Al di là dei numeri, la Virtus è una squadra completa e pronta per poter competere sino alla fine per il salto di categoria. Per questo motivo servirà l'amen vista nei primi tre quarti della sfida di chiusi per provare a contrastare il quintetto senese e ripetere la grande vittoria ottenuta nella semifinale di Coppa ad inizio 2020.